Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. Situazione per la giornata di giovedì quando una zona di bassa pressione lentamente si sposterà dal centro-sud Italia in viaggio verso la Grecia e la Turchia. Torna quindi un po' di alta pressione sulle nostre regioni nella seconda parte di giovedì. Andiamo al dettaglio, zoom nuvolosità con ancora una mattinata di variabilità sul medio-basso adriatico all'estremo sud, poi spazio al sole. Un po' su tutta la nostra penisola dal pomeriggio. In sintesi, difatti, la mappa delle precipitazioni ci conferma qualche fenomeno in mattinata residuo sulla Sicilia tirrenica, in generale comunque basso tirreno, e poi anche il basso adriatico, poi torna il bel tempo ovunque dal pomeriggio. La mappa dell'Italia è emblematica con questa variabilità tra atti piovose in prima mattinata sull'estremo sud Italia, già altrove schierite anche ampie, poi dal pomeriggio bel tempo e temperature che torneranno su valori primaverili. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo.